carissimi ascoltatori di radio e buon consiglio voi tutti che siete collegati in ascolto di questa catechesi un santo giornata a tutti ben ritrovati siamo alla sedicesima puntata di questo ciclo di catechesi mariane di Maria non cansatis dedicato in questa sua prima versione in questa sua prima esplicitazione alla presentazione alla riflessione alla catechesi sui quattro dogmi mariani il dogma dell'assunzione è giunto alla sua quinta parte perché ci siamo un pochino trattenuti su alcuni passaggi della Unificentissimus Deus aventi anche una forte portata catechetica un risvolto utile alla vita interiore perché il taglio comunque di queste nostre conversazioni essendo questa insomma una radio che si occupa lodevolmente dell'evangelizzazione attraverso i mezzi di comunicazione è un taglio catechetico quindi non si potrebbero fare queste trasmissioni e queste conferenze non sono queste catechesi simili ad una lezione di teologia ma non mi sembrerebbe assolutamente il caso non è nell'ambiente consono non è assolutamente la finalità adeguata oggi vediamo, non faccio programmi proseguiamo da dove ci siamo fermati e siamo giunti alla lettura della definizione dogmatica di Pio XII che leggeremo, commenteremo e poi quello che ci aspetta sono il vedere anche come tale definizione è stata recepita dai successivi documenti vincolanti dogmatici della Chiesa che sono soprattutto la Costituzione Lumen Gentium nel capitolo VIII dove parla della Madonna e poi il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica edito da San Giovanni Paolo II fatto questo l'ultima parte ci farà fare una riflessione e soprattutto su alcune tematiche cioè la domanda cruciale è morta la Madonna o non è morta? ha vissuto una cosa come Gesù dice nel senso che è morta e risorta o non è passata per la morte o ha vissuto un'esperienza insomma che non si può dire che non è proprio morta ma neanche che non è del tutto morta insomma perché vedremo che le questioni che si intersecano sono queste e infine una riflessione dogmatica nel senso comprendere le grandissime rilevanze che questo dogma ha perché queste rilevanze come sempre cristologiche ecclesiologiche ma anche antropologiche ma anche protologiche ma anche escatologiche quindi come sempre accade questo è l'importanza anche della figura della Madonna dei dogmi mariani cioè comprendere bene alcune cose della Madonna di riflesso fa comprendere tantissime altre immortali verità della nostra fede divina e cattolica insomma quindi è molto importante fissare lo sguardo ecco sulla divina creatura Maria diciamo così perché è una creatura tutta quanta divina come tra l'altro anche noi saremmo chiamati a diventare in forza della grazia santificante che produce come i nostri fratelli greci che ancora meglio ci insegnano la divinizzazione dell'uomo e quindi guardando lei si comprendono tante cose e questo è quello che ci ascingiamo a continuare a fare non solo durante questo ciclo di catechesi ma anche durante quelle che seguiranno insomma che poi a suo tempo saranno saranno comunicate allora riprendiamo la un efficientissimo steusti più dodicesimo e leggiamo la sorenne definizione pertanto dopo aver innalzato ancora Dio suplici stanzi e aver invocato la luce dello spirito di verità a gloria di Dio onnipotente che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo figlio re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte a maggior gloria della sua gusta madre e a gioia e esultanze tutta la chiesa per l'autorità di nostro signore Gesù Cristo dei santi apostoli pronunziamo dichiariamo definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'immacolata madre di Dio sempre Vergine Maria terminato il corso della vita terrena fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo perciò se alcuno che Dio non voglia lo so se negare oppure in dubbio volontariamente ciò che Dio non è stato definito sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica allora vediamo che la formulazione è molto volutamente Pio XII ha volutamente optato per una formulazione essenziale l'immacolata madre di Dio quindi già usare questa espressione vuol dire mettere in correlazione l'immacolata con l'assunzione sempre Vergine Maria quindi non ripeto le cose che abbiamo detto sempre Vergine non solo di corpo ma sempre Vergine nel cuore quindi sta dicendo che con lei che è stata concepita senza peccato e che non ha commesso alcun peccato terminato il corso della vita terrena ecco la frase fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo la frase molto sobria è terminato il corso della vita terrena che è una frase pensata ovviamente e che lascia aperte tutte le possibili porte alla interpretazione del fine vita di Maria perché come abbiamo già accennato tale cosa non era risolta perché fondamentalmente quali erano le posizioni c'è chi diceva che la Madonna si non avrebbe dovuto morire perché il problema qui come vedremo e lo vedremo oggi stesso speriamo è che la morte dalla liberazione dalla Sacra Scrittura è come dire presentata come conseguenza immediata e diretta del peccato originale cioè noi non possiamo essere cattolici attenzione se non crediamo fermamente che se non ci fosse stato nel mondo il peccato la morte non ci sarebbe stata cioè questo è proprio cioè il passo ci sono alcuni passi della Sacra Scrittura specialmente nel libro della Sapienza lo rileggeremo che sono espliciti sono chiari questo fatto fa anche capire molto indirettamente la gravità e la serietà del peccato no? qualche giorno fa ho fatto una catechesi su un altro ciclo di catechesi sulla Divina Volontà chiaramente non sulla di Buon Consiglio dove Gesù stesso spiegava l'irreversibilità dei danni prodotti dal peccato originale di Adamo cioè alcuni danni guardate che alcuni danni non si possono riparare qualcuno può intendere questa cosa in termini come dire preoccupanti ma dopo il peccato di Adamo qui si muore tutti quanti e Gesù non doveva morire ma Gesù è morto come tutti quanti sappiamo perché ha preso su di sé il peccato del mondo fino a farci uccidere d'accordo ma se no anche Gesù di per sé stesso Gesù sarebbe morto di morte naturale punto interrogativo se non l'avessero ucciso e massacrato in quel modo punto interrogativo se non si fosse lasciato tra l'altro uccidere e massacrato in quel modo perché nessuno avrebbe potuto mettergli le mani addosso se non l'avesse permesso quindi alcuni danni sono irreversibili quindi questo è fondamentale questo qui allora che cosa dicevano quelli che sostengono che la Madonna è morta dice non doveva morire ma non doveva morire neanche Gesù quindi come Gesù è stato ucciso per la nostra salvezza così la Madonna sarebbe morta non perché doveva morire ma perché doveva seguire il figlio cioè essere la coppia vivente di Gesù Cristo no? che la Madonna è la coppia vivente di Gesù Cristo allora doveva seguirlo anche nell'esperienza della morte questo dicevano questi autori altri dicevano ma no 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 perché ci deve essere una differenza perché sì la Madonna è la coppia vivente di Gesù Cristo sì ma la Madonna è come dire ha dovuto soffrire violentemente per partecipare al mistero della salvezza di nostro Signore Gesù Cristo qui poi si apre un altro tema che è il tema della cura e tensione quindi della presenza di Maria Vile della Croce altro tema complesso e tuttora diciamo così di libera interpretazione perché non c'è ancora nessuna nessun chiarimento esplicito e definito da un punto di vista dogmatico no? dice ma la Madonna non è stata ferita non è stata flagellata a sangue non è stata coronata di spine quindi ha vissuto queste cose che suo figlio viveva a livello interiore certamente sì ma non a livello esteriore cioè Gesù è stato crucifisso nudo domanda domanda delle domande la Madonna è stata mai vista nuda da nessuno la vita terrena dobbiamo capire chiedersi queste cose allora gli autori che sostenevano che Maria non era morte dice no perché seguisse in tutto e per tutto il figlio non era necessario che dovesse fare anche l'esperienza della morte in senso stretto quindi come separazione dell'anima e dal corpo e quindi la sua assunzione sarebbe soltanto una breve sosta nella morte una risurrezione una assunzione anche il corpo di Gesù non si è corrotto quindi non è stato soggetto alla corruzione ma non è morta è stata semplicemente assuntamente era ancora vita contro cui era ancora viva a favore della prima tesi c'è una presunta tomba di Maria che si riscontra nella zona insomma del torrente cedro insomma a Gerusalemme ma è molto tardiva questa cosa però contro la tesi che non sarebbe morta per niente vicino al cenacolo a Gerusalemme sì c'è una basilica chiamata la basilica della dormizione e qui la dormizio Maria si apre il terzo tema quindi morta non morta o addormentata che non è morte in senso stretto è un essersi addormentata per risvegliarsi portarla dagli angeli tra le braccia dei suo figlio in paradiso vi dico subito che io sono per questa terza d'accordo visione visione che mi sembra la più consona perché ripeto non è che gli angeli dobbiamo pensare la Madonna è morta ed è risorta e è stata portata al cielo la Madonna non è morta per niente sono scesi gli angeli quindi la Madonna li ha visti e l'hanno portata in cielo punto interrogativo oppure la Madonna si è addormentata e quasi certamente ha vissuto una grandissima estasi durante questo sonno quindi la parte superiore della sua anima come avviano nelle estasi qui oggi è la festa della Santa Teresa quindi basta studiare i suoi scritti quando uno sta in estasi sapete che succede lo si vede anche quando rendono pubblici gli esami che fanno sui presunti veri o falsi veggenti che cosa gli fanno perché una persona che sta in estasi è fuori di sé quindi se uno gli mette uno spillo su un occhio non ha reazioni ma non è morto d'accordo è semplicemente che la parte superiore come dicono i maestri di spirito della sua anima è rapita in Dio in alcuni momenti la persona diventa anche come dire veramente immobile che sembra un cadavere d'accordo c'è anche come dire gli si raffreddano anche un pochettino come dire i tessuti cioè tipo quasi sembra morta ma morta non è perché non c'è stata si muore quando l'anima si separa dal corpo non quando la parte migliore di lei che tecnicamente si chiama lo spirito è rapita in Dio lì si ha un caso come dire di assenza della persona d'accordo con possibile anche sonno estatico si chiama così ma non morte modestissimissimo mio avviso questa è la fattispecie che è occorsa alla Madonna da un punto di vista dogmatico perché dobbiamo sempre distinguere questa è una questione come dire accessoria non è importante da un punto di vista di significazione di fede no perché la cosa fondamentale il dato fondamentale è che il corpo di Maria è in cielo e che non è stato soggetto alla corruzione questo è oggetto di fede divina e cattolica se qualcuno pensa che la Madonna si è corrotta ed è risolta dopo che il corpo fosse stato decomposto è eretico se qualcuno pensa che la Madonna non stia in cielo in corpo ed anima ma soltanto con l'anima è eretico d'accordo quindi ecco questi sono i punti ripeto Pio XII non ha voluto perché non c'era ancora sufficiente chiarezza teologica probabilmente anche perché non essendo così importante vedete la Chiesa ha sempre questo stile no cioè perché ed è uno stile molto opportuno uno stile improntato a prudenza noi abbiamo bisogno della Chiesa e qui ci inseriamo una piccola parentesi catechetica perché ci dia delle coordinate ferme sicure certe entro cui muoverci da cui proprio non capite da cui non da cui non ci si muove d'accordo la Chiesa ha proprio questo compito di baluardo ecco della della fede per cui c'è sempre stata una fortissima come dire avversione io credo divinamente permessa o forse addirittura divinamente voluta a entrare troppo nello specifico d'accordo perché se di una cosa non sei certo nello Spirito Santo non la devi dire come Chiesa per esempio abbiamo parlato tante volte del peccato originale molti padri della Chiesa hanno formulato una loro espressione e io ho detto io sono d'accordo che sia quella ma la Chiesa quando parlava del peccato originale non ha detto che cosa non ha voluto dire che cosa è stato non è che non conoscesse gli scritti di numerosi padri autori spirituali ma non essendo una cosa certa e su cui non si è maturato una certezza di fede è meglio non dirlo non è che uno dice che è d'accordo cioè il peccato originale è questo d'accordo quindi è una disobbedienza a Dio una ribellione causata dalla superbia che in qualche modo ha coinvolto i sensi eccetera che ha prodotto queste conseguenze e che ha necessitato di questa redenzione basta certo che se dopo uno vuole ma per amore di Gesù no per amore della verità per amore della sapienza andare oltre libero di farlo rimanendo sempre dentro i limiti di non andare contro ciò che è definito e avere la propria legittima opinione d'accordo la propria legittima opinione e quindi questo atteggiamento ci mette tranquilli ci mette al sicuro capite cioè nel senso che ecco perché guai a chi si muove e a chi tocca sotto questo punto di vista la chiesa cattolica d'accordo capite il senso in cui lo sto dicendo è una grandissima grazia è una grandissima benedizione il signore il signore sa che ci saremmo trovati in tanti momenti in difficoltà in crisi con tante informazioni con tante notizie che arrivano da destra e da sinistra dice no attenzione fermi tutti io voglio rimanere nella verità solida sicura e certa voglio sapere in senso stretto cosa bisogna credere e cosa non bisogna credere e questa è la funzione che svolge la chiesa mi dicono dalla regia che un'ascoltatrice fa questa domanda che leggo e poi rispondo un'ascoltatrice chiede ho sempre pensato che Gesù venisse chiamato vincitore della morte proprio perché è morto ed è risolto non sarebbe una gloria maggiore per la Madonna essere morta e risorta la Madonna ha cooperato la distruzione della morte per la sua correttenzione è solo un mio pensiero vorrei sapere se è corretto e cosa ne pensa ho già risposto a questa domanda non sarebbe certamente no una gloria maggiore perché la Madonna non è morta di morte violenta come il nostro Signore Gesù Cristo per la nostra salvezza non si potrebbe porre in questo termine non ci risulta che la Madonna che ha avuto come dire sia stata catturata uccisa flagellata come Gesù il problema per cui è stato posto questo è stato posto da quelli della prima da eseguarci della prima posizione cioè la Madonna è morta non semplice per essere non tanto per la nostra corredenzione d'accordo non per questo ma per essere per ricopiare in tutto quello che aveva fatto nostro Signore Gesù Cristo d'accordo quindi io poi non penso morire non sarebbe stata affatto una gloria maggiore ma è assai maggiore per Maria Santissima mostrare come Dio ha voluto mostrare in lei la perfezione del suo disegno sull'uomo che prevedeva una vita per tutti avrebbe dovuto essere come quella che è stata quella di Maria Santissima proseguo quindi la Chiesa ringraziamola che svolge questa funzione ecco vedete anche questa è una domanda come questa di un'ascoltatrice entra come dire nell'ambito della devozione personale d'accordo secondo me ammettere una cosa di questo genere potrebbe significare una gloria superiore alla Madonna questa è una posizione perfettamente legittima io non la condivido personalmente ma può darsi che resterà legittima fino alla fine del mondo perché se Santa Madre Chiesa non interverrà autorevolmente a dire no tra queste tre questa è quella vera e questo ci dà anche un principio attenzione di come dire di vita comunionale ecclesiale oggi non sempre tanto chiara perché sia da parte anche il Papa usa questi termini quindi permetto di usarli anch'io progressista che da parte conservatrice a volte si formulano dei nuovi dogmi di fede formulati da una fazione per andare a scatenarsi contro l'altra ma non esistono questi dogmi di fede d'accordo per esempio la la questione del la famosa questione del limbo il limbo non è oggetto di definizione dogmatica ci sono ne ho parlato tante volte dei pronunciamenti autorevoli di concili che fanno pensare pur senza nominarlo all'esistenza di un regno ultraterreno simile a quello che la tradizione cattolica ha definito limbo il fatto che la commissione teologica internazionale abbia formulato un documento dove ammetta la possibilità della non esistenza del limbo numero uno quello non è un documento avente valore magisteriale ma è un documento di un'autorevole commissione teologica ma quel documento non ha valore magisteriale d'accordo quindi ma questo qui non significa che chi crede ancora che il limbo esista debba essere tacciato come retrogrado o addirittura quasi come eretico o che non crede nella dina misericordia cioè perché questa è una questione che è tuttora aperta per cui ci deve essere rispetto e accoglienza delle posizioni differenti perché c'è sempre un antichissimo principio ecclesiale l'ho citato tante volte nei miei interventi è in latino fa in necessaris unitas in dubis libertas e in omnibus caritas cioè nelle cose necessarie si deve avere l'unità cioè quando una cosa fa parte delle verità di fede tutti le dobbiamo credere ma nelle cose dubbie c'è la libertà e tu non puoi con dinanzi di una cosa dubbia credire qualcuno come se stesse semplicemente perché la sua posizione ti pare retrograta obsoleta questa vale sia da una parte che dall'altra la parte di tutti in omnibus caritas però in tutta la carità capite in tutta la carità che è sempre la legge suprema nella chiesa e appunto la carità porta al rispetto all'accoglienza reciproca al rispetto di chi la pensa diversamente da te da chi ha altre posizioni le argomenta in un certo modo tu serenamente hai delle argomentazioni contrarie ma comunque abbiamo la fede divina e cattolica in comune e questo basta e avanza cioè capite cioè le cose accessorie ogni tanto dice ma l'autore x questo è proprio uno stile di vita ecclesiale cioè gli orizzonti spirituali per esempio il movimento x il movimento y la spiritualità z cioè la chiesa è pluralista sotto questo punto di vista non è che uno che si alza la mattina che fa parte del movimento x dice ah noi siamo i salvatori della chiesa ma quando mai ma non esiste e non importa che non lo dica che tu lo pensi ma non lo dici tu non lo devi neanche pensare non lo puoi pensare d'accordo non lo devi e non lo puoi pensare per nessun motivo d'accordo perché nella chiesa ci sono tante spiritualità ci sono tante famiglie religiose ci sono tanti vie che portano al signore capite io quando facevo le catechesi sulla divina volontà dice ah ma allora io non vivo la divina volontà che vado all'inferno ma qua all'inferno cioè questa quella è una rivelazione fatta dal signore ad una serva di dio che insegna una via bella a mio avviso molto sicura sublime di santità di grande santità se la vuoi percorrere percorre se non la vuoi percorrere vanno a paradiso ma si osserva i dieci comandamenti diceva sempre Santa Teresa la festeggiata di oggi se uno vuole andare in paradiso la via è sempre la stessa e stanno i dieci comandamenti e i precetti della chiesa catechesi che ho fatto tanto tanto tempo fa dieci comandamenti e i cinque precetti generali della chiesa vuoi puntare alla salvezza dell'anima al paradiso diciamo così non mi interessa altro quella è la via capito poi dentro questa via è chiaro che ognuno sia orizzonta vuole diventa santo chi fa la consegrazione totus tuus chi va abbraccia la vita religiosa chi diventa benedettino chi vuole capite questo stile lo dobbiamo fare il rispetto profondo di chi la pensa diversamente da te anche nella chiesa è necessario la valorizzazione anche degli aspetti positivi guardate che questo non è sempre è tutt'altro che scontato capite perché i giudizi le chiacchiere le critiche dipendono sempre da questo ma tu vivi la tua spiritualità vivi la tua famiglia religiosa vivi la tua cosa a fondo nel rispetto del prossimo ma anche nell'accoglienza delle cose positive che ti vengono dagli altri non c'è nessuno che è così cattivo che non abbia delle cose belle da offrire capite questo questo stile anche se come dire ovviamente calibrato in maniera leggermente differente ecco anche quello che anima il dialogo il famoso dialogo che è un'opzione che la chiesa ha fatto oggi noi non possiamo fare finta che non l'abbia fatto l'ha fatto il dialogo con i non cattolici con le altre religioni e con il mondo certo questo dialogo deve essere rettamente interpretato e correttamente vissuto questo è un altro tipo di discorso ma è però uno stile uno stile che ci deve come dire in qualche modo toccare la cui dobbiamo convertirci è un modus di porgersi e di trattare a mio avviso molto molto evangelico cioè ma noi immaginiamo Gesù che quando andava in un posto a predicare arrivava come un carro armato come un caterpillar a fare via convertiti che crede al vangelo perché se no qui succede il finimondo guardate che io sono figlio di Dio se qualcuno si azzarda dimmi no va all'inferno cioè lo stile di Gesù era questo ma io non ci credo d'accordo i vangeli ci dicono un'altra cosa andava umilissimo veramente tipo San Francesco è disposto a farsi sbattere fuori anche dai villaggi c'è l'episodio evangelico di quando non l'ha corso dei samaritani Giacomo e Giovanni dicono facciamo scendere un fuoco dal cielo l'ha rimproverati d'accordo l'ha rimproverati quindi capite quanto è importante questo questo stile oggi più che mai ancor più in quanto oggi questo stile è completamente disatteso io perdonate cioè ma questa noi non possiamo uniformarci allo stile del mondo non possiamo non dobbiamo e guardate che non sempre questo è scontato non sempre questo è scontato perché insomma noi vediamo leggiamo cioè si vedono insomma provenienti anche da ambienti vicino alla chiesa mi permetto non faccio non faccio riferimenti non faccio nomi ma insomma di esprimere un certo dissenso cioè degli stili delle delle uscite delle modalità che io non condivido non sono non mi sembrano diciamo non sono non mi sembrano improntate ad una logica evangelica non mi sembrano quindi chiuso queste parentesi andiamo adesso a vedere l'importante è che sia chiaro che sul problema chiamiamolo problema morte di Maria ci sono queste tre posizioni allora vediamo adesso come la Lumen Gentium ha recepito la definizione dogmatica della munificentissimus nel numero 59 fa quasi copia e incolla vedete anche l'opzione di questo documento di mantenersi sulla linea del documento del pontefice Pio XII della sobrietà non entrare nel merito di questioni non risolte si legge infine la Vergine Immacolata preservata emune da ogni macchia di corpo originale finito il corso della sua vita terrena fu assunta alla celeste gloria vedete in anima e corpo ed esaltarla dal Signore quella regina dell'universo per essere così pienamente conformata al figlio suo Signore dei Signori vincitore del peccato e della morte definito il corso della sua vita terrena anche qui anche se dice per essere più pienamente conformata al figlio suo Signore dei Signori signore dei Signori vincitore del peccato e della morte non sta prendendo una posizione per la prima linea perché ripete il termine di Pio XII finito il corso della sua vita terrena poi nel numero 62 dice quello che fa la Madonna assunta in cielo anche dopo la sua assunzione in cielo ella non ha interrotto questa funzione salvifica ma con la sua molteplice intercessione continua a tenerci i doni della salvezza eterna con carità di madre si prende cura dei fratelli del figlio suo ancora peregrinanti e posti tra pericolo e tribolazioni finché non siano condotti nella patria beata per questo la beata vergine è invocata nella chiesa con titoli di avvocata attenzione ausiliatrice soccorritrice e mediatrice queste espressioni sono molto pesanti d'accordo avvocata e mediatrice soprattutto comunque se Dio vorrà avremo modo magari in un altro ciclo di di catechesi di poter parlare di questi argomenti e vedremo per ora ne prendiamo atto bellissime sono queste ausiliatrice e soccorritrice sono titoli che non hanno mai creato problemi avvocata e anche se è nella salve regina non so dunque avvocata nostra rivolge a noi gli occhi dei miei misericordiosi e mediatrice in senso stretto vedremo che c'è anche un altro posto insomma della Lumen Gentium dove si spiega il senso della mediazione mariana invece sono termini molto forti che fanno comprendere alcune funzioni del tutto peculiari svolti a titolo del tutto peculiare dalla Madonna in favore non solo della Chiesa ma anche di tutti quanti figli di Dio ovviamente figli di Dio in quanto anime da lui create sparse nel corso del tempo e della storia poi c'è la Lumen Gentium 68 che definisce Maria icone scatologica della Chiesa cioè presenta una delle rilevanze dogmatiche appunto quella scatologica dell'assunzione di Maria ormai glorificata in anime e corpo la madre di Gesù è immagine primizia della Chiesa che sarà portata a compimento nel futuro ma nel frattempo brilla qua giù come segno di sicura speranza e consolazione per il popolo di Dio che è in cammino fino a quando arriverà il giorno del Signore che significa sicura speranza sicura speranza vuol dire che se la Madonna è in cielo il corpo e anima io che passerò per la morte posso essere sicuro che il mio corpo mortale risorgerà perché io sono un essere umano come un essere umano è la Madonna cioè perché Gesù Cristo è risorto dalla morte io posso dire ma Gesù Cristo è risorto dalla morte perché è Dio ma io invece sono un essere umano e così non sarà per me per la Madonna così non è questo è il senso di questa espressione poi nel Catechismo della Chiesa Cattolica tra le tante mettiamo un paio di citazioni perché la prima è a sua volta una citazione di Romagenza nel 59 lo troviamo nel Catechismo numero 966 che poi però aggiunge l'assunzione della Santa Vergine è una partecipazione singolare alla risurrezione del suo figlio e un'anticipazione della risurrezione degli altri cristiani infine cita il tropario della festa bizantina della dormizione di Maria vedete i bizantini celebrano la dormizione di Maria nella tua maternità hai conservato la virginità nella tua dormizione non hai abbandonato il mondo madre di Dio hai raggiunto la sorgente della vita tu che hai concepito il Dio vivente con le tue preghiere libererai le nostre anime dalla morte ancora Catechismo della Chiesa Cattolica numero 972 proprio intitolato anche questo Maria icona scatologica della Chiesa dopo aver parlato della Chiesa della sua origine della sua missione del suo destino non sapremo concludere meglio che volgendo lo sguardo verso Maria per contemplare in lei ciò che la Chiesa è nel suo mistero nel suo pellegrinaggio della fede quello che sarà nella patria al termine del suo cammino dove la attende nella gloria della Santissima Indivisibile Trinitana nella comunione di tutti i santi con lei che la Chiesa venera come la madre del suo Signore come sua propria madre attenzione a questa questa immagine quindi attenzione che in Maria noi possiamo vedere ciò che la Chiesa è nel suo mistero quindi è molto importante imparare a meditare attentamente sulla vita e sui misteri della Madonna molto importante perché pensando a lei penso a me penso a me come anima di battezzato e penso a me come membro della Chiesa di cui la Madonna è icona quindi ciò che lei ha vissuto è ciò che caratterizza la vita della Chiesa quindi è molto importante mantenere fisso lo sguardo su Maria ora questa perfetta partecipazione alla resurrezione di Gesù cominciamo a andare a vedere un po' la riflessione dogmatica è una perfetta e immediata comunicazione di quelle che sono le caratteristiche del corpo glorificato sapete che la prima lettera ai Corinzi nel capitolo quindicesimo versetto 44 come poi interpretato da Sant'Omaso d'Aquino che ne dà la lettura un pochino autentica riferita appunto ai corpi glorificati spiega le caratteristiche dei corpi risolti vi leggo il versetto tanto per ambientarci così sarà nella risurrezione dei morti primo Corinzi 15 42 44 si semina corruttibile e risorge incorruttibile si semina ignobile e risorge glorioso si semina debole e risorge pieno di forza si semina un corpo animale e risorge un corpo spirituale allora si semina corruttibile e risorge incorruttibile che significa significa che un corpo glorificato che è incorruttibile non è più soggetto alle misere della corruzione ricordiamo quante volte parlando della sozione di Maria si spiega proprio quel corpo non solo è divenuto incorruttibile ma non si è corrotto quindi l'incorruttibilità sopranaturale aggiunge ulteriori caratteristiche allora un corpo incorruttibile è anche immortale nel senso che non può più morire non è soggetto alla morte non può soffrire è impassibile non può come dire essere vulnerato da forme di sofferenza fisiche poi non è soggetto ai bisogni fisiologici non ha bisogno di mangiare non ha bisogno di bere non ha bisogno di dormire né di svolgere le funzioni fisiologiche ordinarie che sono connesse a questi tipi di attività ovviamente prego qualunque persona dotata di buon senso di comprendere il fatto che Gesù abbia mangiato il pesce dopo la risurrezione non è non contraddice questo perché un corpo glorificato può mangiare ma non ha bisogno di farlo non sente la fame ecco e né un corpo incorruttibile è più soggetto al turbamento di alcuna passione ma questo chiaramente la Madonna in quanto immacolata non l'aveva neanche durante la vita terrena poi si semina debole e risorge pieno di forza questa caratteristica è designata in teologia con il termine di agilità quindi cosa significa pieno di forza non più soggetto alle limitazioni del tempo per cui ha un moto istantaneo e può essere contemporaneamente presente in più luoghi questo Gesù l'ha manifestato in tantissime volte poi si sorge spiritual si semina animale e risorge spirituale cioè un corpo glorificato e un corpo spiritualizzato caratterizzato dall'attributo della cosiddetta sottigliezza cioè pur essendo materiale palpabile non è più soggetto alle limitazioni dello spazio Gesù entrava nel genacolo a porte chiuse e questo lo possono fare i corpi glorificati poi si semina ignobile e risorge glorioso la gloria di un corpo risorto un corpo glorificato è deificato nel senso che è inabitato dalla gloria divina che ridonda sul suo corpo conferendogli anche una bellezza indescrivibile ed uno splendore di luce divina immenso di cui rifugia chi ha visto la madonna nell'apparizione tutti quanti raccontano unanimemente questo allora per quanto riguarda la morte vi ho detto insomma quali sono le tre posizioni vi ho detto anche quali sono quelle che io penso io personalmente penso che la madonna giunto al termine della sua vita terrena abbia avuto una per lei consuetissima insomma non dobbiamo immaginare la madonna era una persona normale la persona la madonna ha fatto una vita normalissima da un punto di vista dell'esteriore perché chiunque incontrava la madonna incontrava semplicemente una donna virtuosa bellissima d'accordo ma dove non traspariva nulla esteriormente dell'universo di splendore e di grazia che viveva ma dentro quell'anima cioè io credo che la madonna sia proprio l'emblema non è che credo è qui mi faccio riferimento alle vecchie catechesi insomma cioè noi sappiamo la vita nella divina volontà è vita tutta interiore fuori non si vede nulla capite quindi fuori si vede l'esistenza di una vita perfettamente apparentemente normalissima normalissima e attenzione normalissima anche nel fatto che le attività ordinarie la madonna ha fatto tutte le attività ordinarie della vita terrena cioè la madonna dentro casa spazzava la casa accudiva San Giuseppe accudiva Gesù andava all'orto usciva faceva sotto questo punto di vista carità ma dentro il cuore l'assoluta straordinarietà e ripetibilità della madonna il suo mondo interiore e quando era chiaramente in solitudine in preghiera lì a porte chiuse dentro la sua stanzetta solo lei sa quello che è successo capite da tutto questo punto di vista comprendiamo in dubbio che sia una cosa di questo genere quindi io personalmente penso che al termine della vita terrena ha avuto una delle sue innumerevoli estasi da cui lei praticamente usciva con la santissima trinità basta leggere la mistica città di Dio della venerabile Maria da Greta che è stupenda e poi rientrava e stava tranquillamente come se capite questa è proprio veramente la grandezza solo che ha avuto questa grandissima estasi gli angeli sono scesi hanno preso il corpo e l'hanno portato in paradiso questo lo dico terra 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 quindi è una dormizione in realtà non una vera morte io ad ammettere una separazione dell'anima dal corpo ho delle grosse difficoltà perché ripeto ci sono dei passi della sacra scrittura per esempio il libro della sapienza 2.23.24 che cioè è talmente esplicito è talmente chiaro cioè fa comprendere proprio come la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fa un'esperienza coloro che ne appartengono sto citando testualmente dice sì Dio ha creato l'uomo per l'immortalità lo fece immagine della propria natura ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fa un'esperienza a chi coloro che gli appartengono a chi al diavolo quindi solo chi appartiene al diavolo fa esperienza della morte chi appartiene al diavolo dice appartiene al diavolo chi sapete chi chi pecca col peccato originale purtroppo si appartiene al diavolo e col peccato mortale si appartiene al diavolo io le cose le ho sempre dette molto molto chiaramente anche se sono un pochino truci ma è così quindi anche la lettera ai romani il capitolo quinto adesso non è il caso di andare a leggere fa comprendere benissimo come la morte è entrata nel mondo come salario della colpa di Adam per cui una creatura che non ha contratto il peccato originale e non ha contratto il peccato attuale per quanto mi riguarda nel rispetto di chi porta altre posizioni come ho detto non può morire in senso stretto cioè non può esserci quella separazione dell'anima dal corpo che è il riverbero della separazione dell'anima da Dio e il fatto che Gesù l'abbia vissuto Gesù l'ha dovuto vissuto l'ha dovuto vivere come redentore perché è morto di morte violenta prendendo su di sé tutto il peccato del mondo compreso la morte che doveva vincere lui stesso dal di dentro quindi passandoci questo fa anche capire il diverso piano come dire della redenzione e ovviamente l'assoluta come dire discrepanza di livelli perché io credo che la Madonna si possa definire corredentrice dell'umanità ma è ovviamente chiaro che non sta a livello del redentore capite questo sarebbe come dire spropositato dire una cosa del genere e una differenza è questa d'accordo che oltre che tutto quello che la Madonna ha fatto per la nostra corredenzione è subordinato e ha valore solo perché è unito a quello che ha fatto Gesù e solo perché lui ha voluto che ci fosse anche il resto ma si trova anche su un grado distinto cioè quello che la Madonna è stato chiesto è stata di vivere la morte mistica nel cuore al Calvario non la morte fisica nel corpo queste ripeto sono mie opinioni personalissime si può pensare che la Madonna in stato di piena coscienza è stata presa dagli angeli e portata in paradiso si può pensare che per una più perfetta conformazione a Gesù Cristo sia passata per la morte reale non è proibito pensarlo io c'è un po' di ripugnanza ma devo rispettare che la pensa diversamente come ho detto prima e che poi sia stata risuscitata e assunta in cielo mi prendo altri due minuti così possiamo concludere l'argomento dell'assunzione facendo una piccola riflessione dogmatica allora anzitutto c'è una rilevanza cristologica di Maria Santissima assunta in cielo perché l'assunzione di Maria da un lato è una conseguenza della risurrezione di Gesù Cristo come abbiamo visto ma dall'altro rafforza la fede nella risurrezione di Cristo primo secondo la rilevanza ecclasiologica di Maria assunta in cielo perché la Chiesa contempla in lei ciò che sarà nella Gerusalemme nuova così come contempla nei misteri della sua vita terrena ciò che ella è nei suoi misteri e nella sua peregrinazione terrena poi c'è una rilevanza antropologica protologica dell'assunzione cioè una conferma di ciò che la Chiesa insegna sulla creazione e sul peccato originale cioè come abbiamo letto nel libro della sapienza Dio aveva creato l'uomo in maniera perfetta per l'immortalità dolore peccato e morte sono realtà non da lui create né da lui volute capite? maria ne è la dimostrazione lampante che se noi fossimo rimasti come Dio ci aveva fatto e se avessimo fatto quello che lui avrebbe voluto non saremmo passati per la morte non vi immaginate la Madonna a letto con 40 di febbre e con la polmonite io no ecco ok infine l'abbiamo visto anche nei recenti documenti della Chiesa c'è la rilevanza scatologica dell'assunzione perché guardando la Madonna ogni uomo viene rafforzato nella speranza della risurrezione perché quantunque la Madonna sia la madre di Dio sia la tutta santa sia la più bella sia la delizia dell'altissimo e chi più ne ha più ne metta di Maria è una creatura eppure già vive in pienezza la glorificazione integrale della sua persona quindi possiamo concludere questo argomento dicendo che dove noi siamo in terra ella fu la Madonna che è stata sul pieno della terra dove lei è in cielo e in pienezza noi con l'aiuto di Dio perseverando fino alla fine nella santa fede divina cattolica speriamo un giorno di essere e se Dio vuole saremo appuntamento alla prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria e la mia benedizione